Una delle opere che colpisce in modo particolare i visitatori è la Casa della Libertà. Una piccola costruzione architettonica che indica metaforicamente la nostra casa interiore, il nostro io più profondo, e che Ruffo ha dipinto come un bosco pieno di alberi, nella cui pace è possibile riflettere su se stessi. Se all'interno di questa casetta guardiamo in alto, cercando nel tetto, troveremo degli specchi. E questo è un invito a guardarci dentro, per scoprire che la vera libertà dobbiamo trovarla dentro di noi. Le pareti di questa casa sono infatti rivestite da una miriade di lettere, intagliate una ad una e fissate con spilli, che unite insieme formano un importante messaggio sulla libertà, tratto dalla celebre opera Il Profeta del poeta libanese Kyle Gibran.